La postazione della 118 di Ragusa cambia casa e si sposta in locali più idonei, presso l'ospedale civile del capoluogo Ibleo. Ad annunciarlo il commissario dell'azienda sanitaria di Ragusa, dottor Salvatore Lucio Ficarra. Il trasferimento della postazione 118 MSA, mezzo di soccorso avanzato, Ragusa 1, che fino a ieri era allocato nei locali di via Vittorio Emanuele Orlando, Ragusa, è stato trasferito nella nuova sede appositamente individuata presso l'ospedale civile. La direzione strategica ha espresso grande soddisfazione per l'intesa e la collaborazione raggiunte con le centrali operative di Catania e Palermo, ma anche per il luogo e la struttura e per la capacità e la potenzialità in termini di resa dei servizi, che la nuova sede riuscirà a garantire. Ha sottolineato che si tratta di locali decisamente più idonei, di grande efficienza e funzionalità, che possono interagire con tutte le altre forze che si occupano a vario titolo dell'emergenza. Il presidio ospedaliero civile e tutto il personale che ha contribuito in tempi brevissimi alla trasferimento della nuova sede.